Quando Roma divenne una Repubblica? Nel 509 a.C. Roma divenne una Repubblica. L'ultimo re di Roma, Terquino e Superbo, viene cacciato dai Romani perché è troppo prepotente. Nasce anche una leggenda, la leggenda di Lucrezia, sui motivi per cui i Romani si ribellano contro l'ultimo re di Roma. Lucrezia, una donna sposata, viene violentata dal figlio del re Terquino il Superbo. Il marito, ritornato a casa, vede la moglie in lacrime che gli confessa il fatto che è stata violentata e per questo motivo si ucciderà, dicendo perché nessuna donna romana, dopo quello che mi è successo, rimanga impunita. Noi, noi, noi. ciao al prossimo video vi aspetto